Buonasera e ben ritrovati al consueto appuntamento con la voce delle istituzioni, è il piacere di avere in studio il sindaco di Falcade, Michele Costa, che saluto e che ringrazio per il tempo che dedica a questa trasmissione. Grazie a te, Belluno, buonasera a tutti. Allora, cominciamo con l'argomento principe di queste trasmissioni che abbiamo ripreso dopo la pausa elettorale, ed è la gestione del Covid. Non ci siamo visti per molto tempo, anche perché appunto c'erano tutte queste precauzioni, c'era il lockdown. Una cittadina e un comune come Falcade, come ha affrontato soprattutto la prima parte, quello dell'isolamento totale, quindi i servizi da portare anche a casa, probabilmente di molte persone anziane? Diciamo che è stata l'ennesima sfida che io come altri amministratori ci siamo trovati ad affrontare. È stato un impegno importante, molto delicato, perché l'insidia era appunto piuttosto infida e lo è ancora, ma nel periodo del lockdown la situazione era molto delicata, quindi le attenzioni da avere nel trattare tutte le situazioni quotidiane che ci sono avute e sono state tante. Devo dire, lo faccio volentieri, grazie ai cittadini del comune di Falcade, perché a mio modo di vedere hanno avuto veramente un comportamento saggio, si sono attenuti a quelle che erano le regole, poi ci sono sempre i casi particolari, però la maggior parte dei cittadini sono stati corretti, hanno avuto un comportamento veramente attento al rispetto delle regole, sebbene fossero mari in qualche caso anche piuttosto pesanti. Ringrazio anche tutte le associazioni di volontariato del territorio, perché nel momento in cui c'è stato bisogno per la distribuzione delle mascherine, piuttosto che per avvisare i cittadini delle novità o richiamare qualcuno anche all'ordine, diciamo così, sono sempre stati molto disponibili e insieme abbiamo potuto fare un grande lavoro. Qui ci sono i momenti nei quali si scopre anche l'importanza di una comunità, che magari a volte si sente disgregata, ma nei momenti importanti si ritrova unita e disponibile ad aiutarsi. Sì, è verissimo, purtroppo devo dire in questi ultimi due anni, in questi ultimi mesi, l'abbiamo scoperto più volte, abbiamo dovuto tastare con mano più volte questo aspetto. È una bella cosa, però la frase lo dice, è in emergenza che molto spesso si scoprono certe cose. Purtroppo stiamo vedendo spesso e malvolentieri tutta una serie di emergenze e urgenze che ci obbligano a determinati comportamenti. Senta, una volta finita l'emergenza con i locali, parte l'emergenza per la stagione turistica, che peraltro, dicono in molti, ha avuto un grande riscontro, se non altro nei numeri, poi magari negli esiti economici per le attività, lo vedremo più avanti. Allora, bisogna considerare il fatto che l'emergenza e il lockdown sono partiti in una fase finale di una stagione invernale che per tutti sarebbe stata, se fosse continuata normalmente, una stagione da incorniciare negli anni, proprio una stagione eccezionale dal punto di vista turistico. Partendo da questo presupposto e dal fatto che già vi fossero presenti sulle Dolomiti, in Valle del Bio di San Falcade, importanti numeri, devo dire che l'occhio e l'attenzione al turista e comunque al visitatore presente c'è sempre stata fin dall'inizio, perché abbiamo avuto costante la presenza di proprietari di seconde case, piuttosto che appunto visitatori che magari erano anche bloccati in appartamento, eccetera. C'è stata una prima fase, devo dire, abbastanza difficile da gestire perché si è creata una sorta di conflitto, si è creata una sorta di conflitto fra locali e possessori di seconde case che magari imbarba a certi divieti, anche quando ci sono stati, ma prima, senza preoccuparsi troppo, ma magari di limiti che erano già posti, c'è stato un po' un movimento verso la parte alta della provincia di Belluno, credo che altri colleghi hanno potuto constatarlo. Devo dire che comunque poi c'è stato un comportamento che devo dire è stato piuttosto corretto da parte di tutti, anche da parte degli ospiti, per cui le cose si sono risolte bene. Senti, il patrimonio immobiliare di Falcada è caratterizzato, come molti altri comuni, proprio dal fatto di molte seconde case, lei mi diceva un 50%, se arrivano molte persone anche i servizi vanno adeguati ed era inaspettata. Certo, infatti il problema era su questo perché normalmente si sa quando è il periodo, si conoscono i periodi in cui ci sono maggiori presenze e si sa come affrontarli, si sa come gestirli. Una situazione del genere credo che fosse sia lampante che fosse mai capitata e quindi molto difficile a gestire nei numeri, nella presenza. Devo dire però che stiamo parlando di presenze, sì, nei numeri, comunque contenuti. Che eravate già abituati. Sì, sì, anche perché negli ultimi, devo dire che negli ultimi mesi si vede un po' una riscoperta delle seconde case. Poi quest'anno c'è stato il boom, allora per tornare alla domanda di prima, devo dire che facciamo la premessa che poi tutti i conti li facciamo a fine della stagione, ovviamente saranno principalmente gli operatori, gli esercenti che verificano come sono andate le cose, anche perché la presenza di grandi numeri non vuol dire che l'economia si sia mossa, perché tutti quanti avranno avuto le loro cautele, le loro attenzioni nelle spese che hanno sostenuto. Però devo dire che quest'estate si è distinta per numeri importanti in Valle del Biois e devo dire che anche qua faccio i complimenti e ringrazio gli esercenti, i commercianti, gli albergatori del Comune di Falcade perché sono stati veramente dal mio punto di vista esemplari nel applicare le regole, nel farle rispettare, sono stati attenti, in qualche caso hanno avuto anche la necessità di discutere un po' con qualcuno, però devo dire che la situazione è andata per il meglio. Come sempre le regole le richiedono tutti, ma per gli altri, mai per se stessi, è un classico. Le regole vanno bene per gli altri. Senta, altra problematica è quella delle scuole, sono iniziate da poco, voi avete una materna, l'elementare e poi avete soprattutto l'istituto alberghiero che è una scuola a parte, anche perché c'è il convitto. Per le prime due voi siete direttamente interessati per la terza in modo indiretto, vero? Sì, esatto, perché c'è più una collaborazione per la terza, perché tutti i plessi scolastici delle scuole superiori in realtà fanno capo alla provincia, sebbene la proprietà sia, c'è una norma di legge del 94 che stabilisce che è la provincia essere soggetto gestore, quindi che si occupa direttamente delle attività della scuola. Sì, diciamo che per una volta, ahimè, il problema dei numeri scarsi della montagna, in questo caso ci sta tutelando perché gli spazi e le aule e quindi i numeri degli alunni fanno sì che non sia stato necessario intervenire in maniera radicale per quanto riguarda la gestione dell'emergenza Covid sia alla scuola materna che alle scuole elementari. Sì, naturalmente allude al distanziamento. Esatto, esatto, quindi le aule sono sufficienti, gli alunni, diciamo che la parte gestionale del problema ha risolto il problema stesso, quindi si è trattato di applicare regole di gestione dei flussi degli studenti, della mensa piuttosto che di altri dettagli che oramai credo conosciamo tutti perché le sentiamo quotidianamente. Per quanto riguarda il Polo Follador De Rossi, in particolare l'indirizzo turistico alberghiero che c'è a Falcade, la questione è un po' più complessa perché si tratta di contemperare insieme tutte le varie attività della scuola con la palestra collegata, dello ski college e del convitto. Il convitto in sé è, le scuole dotate di convitto sono un aspetto che forse il Ministero non ha curato con grande attenzione. So bene da parte della scuola che stanno studiando le soluzioni migliori, diciamo che c'è molto lavoro da fare, però i problemi si stanno risolvendo. Parliamo di una iniziativa che ha incuriosito molto e ancora una volta ha messo in luce l'importanza di un vostro concettino, anzi di due, Augusto e Franco Murer. Il Museo Murer è chiuso, però la proprietà ha preso una decisione molto importante e anche coraggiosa. C'è stata questa proposta di organizzare praticamente una mostra all'aperto sul territorio e quindi di fatto le opere di Franco e di Augusto Murer sono state distribuite fra la piana di Falcade in quota alle Buse sul Col Margherita e quindi il turista che avesse voluto visitare e che può visitare ancora il territorio fino alla fine di settembre può apprezzare e ammirare queste opere passeggiando sulla piana di Falcade, per esempio, piuttosto che più in quota quei colori dell'autunno che oramai cominciano ad arrivare. Immagino che ci siano state anche delle accortezze perché si sa che le buone intenzioni a volte vengono vituperate da gente che dice guarda un'opera, sono come i funghi, quasi quasi mi rapporto a casa. In effetti c'è stato anche un'attenzione rispetto a questo. Senta, il cattivo tempo si manifesta in modo violento ormai da parecchio tempo nella nostra provincia, soprattutto nelle vallate, la fragilità del territorio è evidente. Lei comincia a guardare con un po' di preoccupazione dopo gli ultimi temporali, dopo le ultime frane e colate la situazione del suo paese, perché sta sempre più venendo a valle. Credo che sia una cosa che è condivisibile, anzi lo so perché ne abbiamo parlato più volte con i colleghi sindaci non solo della Gordino ma di tutto il bellunese, vediamo un territorio incredibile, eccezionale, bellissimo, che però dal punto di vista geologico proprio per la sua bellezza, diciamo che un po' la natura stessa e la sua fragilità, è molto delicato, quindi gli ultimi anni che ci hanno visto sempre più, con sempre più frequenti episodi meteorologici molto intensi e condizioni climatiche particolari, l'arrivo di Vaia poi ha indebolito ulteriormente tutto il territorio, io uso questa frase, dico che ogni volta che vedo una nuvola in più comincio già a preoccuparmi perché arriva lo scroscio di pioggia più forte, le famose bombe d'acqua e parte la colata piuttosto che l'episodio magari di intasamento del tombotto stradale, per cui non si riesce ad essere sempre nei tempi giusti con gli interventi, stiamo facendo veramente il possibile, però la preoccupazione è tanta. Il primo agosto e poi il 29 agosto di questa estate ci sono stati due episodi che in aree diverse del territorio hanno colpito anche i torrenti più in quota, Valfredda piuttosto che i rii dei casoni dalle parti delle cime d'auta o anche il rio Focobon, con una quantità di materiale movimentata molto grande che dà questa preoccupazione perché un po' alla volta arriva a valle, arriva verso le frazioni, verso gli abitati e quindi la preoccupazione c'è. Insomma che anche il problema dello sghiagamento, del togliere i detriti va preso in considerazione già adesso? Sì, diciamo che comunque tutti gli enti si stanno adoperando molto perché so che a breve ci saranno interventi del genio civile e anche dei servizi forestali per quanto riguarda i torrenti di competenza proprio per avviare queste operazioni, quindi tutti gli enti sono coinvolti nel garantire la sicurezza del territorio. Il lavoro da fare è tanto, diciamo che dovremmo avere più forza in gioco per poter riuscire a risolvere in tempo, però ripeto, ringrazio perché so che per quanto è possibile fare si sta facendo. Senta, la pista ciclabile in questi ultimi tempi è stata percorsa più dalle ruspe che non dalle biciclette. Purtroppo sì, purtroppo per tanti aspetti è proprio vero, Vaia aveva completamente portato via il ponte che c'è sul torrente Biois, il collegamento con Canale d'Agordo, l'estate 2019 si era riuscita ad approntare una pista provvisoria funzionale poi a gestire i tempi fino a che non fosse pronto il progetto e poi l'appalto e poi quindi il nuovo ponte. Ora siamo nella fase di affidamento dei lavori, speriamo possano iniziare quanto prima, purtroppo proprio negli episodi che dicevo prima di quest'estate il guado provvisorio è stato completamente asportato e non c'erano immagini per per lo ripristinare. Allora, se non ci sono sorprese entro la fine di settembre il lavoro dovrebbe essere appaltato. Mi piace che ormai è titubante. Sono, diciamo che ultimamente per tante questioni sono, tendo ad avere i piedi veramente di piombo. Non si dice gatto finché non è nel sacco? No, no, anche perché mi è capitato purtroppo di rimanere scottato alcuni casi per problemi diversi per cui cerco di usare un maggiore cautela. Di Falcade potrei parlarvi molto anche perché è un territorio che ho per mia fortuna girato tanto, soprattutto le cime d'auto che sono tra i gruppi montosi che prediligo, ma per visitare coloro che ancora non hanno fatto c'è una possibilità domenica prossima? Sì, domenica 26, sabato 26 e domenica 27 agosto il gruppo Folk Valbiois, l'Unione Ladina Valbiois hanno preso la decisione molto coraggiosa secondo il mio punto di vista di non perdere l'appuntamento con Sede Smonteghea. Ovviamente in regime Covid la manifestazione che ha dei numeri veramente eccezionali era praticamente impossibile da organizzare, però non hanno voluto far perdere l'appuntamento e quindi in condizioni molto più contenute, molto più ristrette, però ci sarà l'appuntamento con Sede Smonteghea. Non ci sarà il tendone, non ci sarà la sfilata, ci sarà un mercatino, gli animali saranno presenti solo in minima parte, però l'importante è non far mancare l'appuntamento. A questo proposito, se posso, vorrei ringraziare tutte le associazioni che durante l'estate hanno garantito piccole e grandi manifestazioni sul territorio, perché si sono assunti degli oneri importanti e garantendo comunque la sicurezza sono riusciti a proporre un cartellone riveduto e corretto, molto ristretto, però devo dire loro grazie, perché se c'è stata vita e attività in Valle del Biois è stata anche grazie a loro. La molta frequentazione di Farcade fa sì che sia necessario dare anche la possibilità, quando il sole cala, di fare delle passeggiate lungo questo bel paese, però bisogna avere i marciapiedi, è un lavoro al quale state non so da quanti anni lavorando, sicuramente tantissimi. Partono, no? Sì, è una di quelle cose in cui ci stiamo pensando a lungo tempo, finalmente veramente a giorni dovrebbero partire i lavori per un primo stralcio e poi entro poche settimane anche un secondo stralcio come inizio i lavori, perché effettivamente ci sono alcuni tratti che sono assolutamente deteriorati, quindi sia come materiali che come genericamente fruibilità andranno sistemati, sì. Inizialmente parliamo di Corso Roma e poi un po' alla volta. Quest'anno o il prossimo? No, no, il primo stralcio dovrebbe partire veramente nei prossimi giorni. Perfetto, speriamo e glielo auguro. Ultima battuta la facciamo riguardo alla vostra intenzione di acquistare un immobile che avrà una destinazione particolare nella zona industriale, quindi poco prima di arrivare... Nell'area artigianale il Comune di Falcade con l'annualità 2020 del Fondo dei Comuni di Confine e con parte di avanzo di amministrazione e altri contributi acquisterà un immobile che è una casa con un'ex officina meccanica dotata di impianti tecnologici eccetera e di un appartamento che può servire per i volontari. In pratica l'obiettivo è quello di acquistare questo immobile per darlo in comodato d'uso gratuito alla Croce Verde Valbiois e al soccorso alpino stazione Valbiois e creare così un polo delle emergenze strutturato e disponibile per queste associazioni che sono fondamentali per il nostro territorio. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, siamo stati con Michele Costa, sindaco di Falcade, cittadina che vi invito a visitare anche questo prossimo fine settimana in quelli che verranno. Grazie al sindaco, grazie a voi per averci seguito, buona serata. Grazie a voi.